ciao a tutti ragazzi ciao bentornati nel nostro canale youtube video di oggi dedicato al numero di ottobre 2021 di saikyo jump rivista mensile che tra l'altro potete acquistare su japan shopping service e link del sito www.japan shopping service.it in descrizione insieme ad altre cose adesso andiamo a vedere sì particolarità di questa rivista è innanzitutto il formato che è più piccolo rispetto a una normale come può essere shonen jump e anche diciamo la qualità della carta perché ad esempio la copertina qui è normale mentre qua è più ruvida purtroppo non possiamo farvelo sentire però è un po più compatta come formato altra particolarità è che ci sono degli allegati in questa rivista questo mese infatti abbiamo questo libricino dedicato al shopper molto molto carino e all'interno troviamo i capitoli dedicati a lui ovvero il 151 152 153 presi direttamente dal manga di one piece la particolarità è che sono tutti a colori quindi è anche davvero molto 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 bellina come cosa sì su questa rivista molto particolare perché potete trovare degli spin off di vari manga insomma celebri come dragon ball super heroes e altri sì quelli scolastici di demon slayer one piece ora li andremo a vedere intanto io direi di aprire anche questo poster e tra l'altro all'interno ci sono anche delle carte di dragon ball ora vediamo un po molto 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 bello we are one per le celebrazioni appunto del capitolo mio è davvero molto molto bello sì mi piace tantissimo ma anche dietro è uno spettacolo è sì tanta tanta roba ok davvero molto bello sì mi piace moltissimo adesso andiamo a vedere le le carte sono racchiuse in due praticamente bustine di plastica allora qui abbiamo delle carte di yugioh ora andiamo a vedere a tra l'altro vedete c'è anche qui rush duel perché si rifanno all'ultima serie di yugioh allora no questa si è una carta di yugioh e si vede chiaramente e ok quest'altra io sinceramente ah dragon quest non sapevo neanche l'esistenza di queste carte sinceramente e queste sono di dragon ball sì queste chiaramente ci sono i tre nemici principali di dragon ball z freezer cell e majin bu è davvero molto bello eh sì è un po un po vario insomma abbiamo diverse serie e ok io direi di vedere un po il volume allora qui abbiamo le solite pubblicità in questo caso di yugioh le carte sì dolci ah qua abbiamo vediamo un po una specie di gioco a premi forse sì qua da mandare poi con le cartoline da inviare bello eh già ah qua invece abbiamo una specie di mini poster sempre sulla celebrazione vedete qua del volume 100 insomma con luffy e kaido e qua ah sì anche dietro vedete c'è la mappa di wano e molto molto carina come come cosa poi si procede qui con i vari protagonisti insomma personaggi di one piece alle prese con i nemici dell'esercito di kaido ok qua la pubblicità numero 99 100 e 101 che formano un'unica immagine abbiamo le figure ah che carini i nemici se li volete japan shopping service link sempre in descrizione eh sì qui mi sembrava doveroso visto che facciamo vedere un po di merchandising ok iniziamo a vedere la rivista vera e propria con one piece gakuen qui vediamo i nostri si vedete sono più giovani qui eh simpatico come come spin off sì qui abbiamo la cp9 eh insomma questa rivista dedicata un po a tutti gli spin off i manga sono importanti sì e non solo ci sono comunque anche altri manga che poi andremo a vedere ah qui abbiamo jujutsu kaisen ah e tra l'altro fa la pubblicità ai gaccia eh sì ok altra qua cartolina insomma da mandare eh quasi è un po pubblicità un po è un misto si alterna sì c'è ci sono anche in shonen jump però non non così tanto cioè diciamo che di solito è su nella parte iniziale poi verso quella finale qua no ogni tanto anche in mezzo al volume ma non così tanto ecco qua ci sono anche i nuigurumi nuigurumi bellini ah qui abbiamo invece quello di Kimetsu vedete Gakuen questo ambientato insomma a scuola molto molto carino è carino e qui abbiamo la pubblicità al videogioco al videogioco all'anime ok poi le carte eccole qui eccole qua ci presentano tutte le carte che abbiamo trovato eh sì e non solo ah anche il gt c'è ok e qui passiamo a Super Dragon Ball Heroes eh sì eh ci sono anche i nemici dei vari film dello Zeta ma qui io sinceramente non so chi sia non ah no questo che cos'è scusate allora questo è Super Dragon Ball Heroes e questo sempre sempre Super Dragon Ball Heroes sai che ho già c'è scritto qua in altro penso siano allora due capitoli perché qua non c'è scritto il titolo un'altra cosa quello dopo sembra sempre ah no SD però sarà un altro insomma chi più ne ha più ne metta di Dragon Ball ah questo è l'SD l'altro era quello che dicevamo noi ok e poi abbiamo anche l'anime comics mi sa ah sì di Dragon Ball GT quindi insomma Dragon Ball a go go proprio ah sì sì no ma gli anime comics solitamente sono sempre a colori perché appunto riprendono l'anime ehm coi fotogrammi e poi li mettono a mo' di manga non mi immaginavo che venissero pubblicati come su riviste sulle riviste io pensavo che uscissero direttamente ehm come volumi e basta non non me l'immagino insomma ok qui abbiamo un approfondimento su vari animali allegati a chi mezzano gli alba ma è vero accidenti comunque cioè molto molto vario sì poi parecchio incentrato su sugli spin off e il merchandising ecco questo invece non penso sia uno spin off sinceramente non non so cosa sia è semplicemente un gag manga sì ecco questo invece è quello di Dragon Quest della Daino Diboken eh sì scusateci per eventuali spoiler o che altro non non so se segua l'anime appunto omonimo che c'è che stanno dando ma e qua invece abbiamo Yu-Gi-Oh 7 tra l'altro di questa serie esistono varie versioni manga perché una mi sembrava che l'avessimo vista su V-Jump ecco questo invece sembra già i protagonisti sono abbastanza giovani ma qui mi sembrano ancora più piccoli o comunque punta molto a essere un manga comico eccone un altro questo invece sembra già più insomma un po' più serio perché vedete lo stile dei disegni è già insomma meno è più adulto comunque meno stilizzato non mi aspettavo di trovare più versioni dello stesso manga nella stessa rivista pensavo che fossero insomma su varie riviste in una serie di manga qua abbiamo un po' di pubblicità di My Hero Academia con questa illustrazione ed eccolo qua eh sì altro spin off di My Hero Academia sì 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 no diciamo che è molto carina come rivista ah sì quello sì ok questo non me lo aspettavo a YouTube forse sono degli YouTuber forse quelli qua abbiamo un manga comico eh sì sì diciamo che comunque il target rimane sempre per ragazzi se non anche un po' più giovani perché comunque ci sono diversi manga che sembrano proprio rivolti ai bambini quindi anche Kodomo sì ah ma qua c'è il dottor Maschirito che bello da dottor Slump a Rale ma pensa è carino però che ci siano anche questi articoli o comunque curiosità come si era visto prima per Demon Slayer e quant'altro davvero bello c'è anche dei giochini sì pubblicità insomma della Switch ecco e qua c'è la copertina del numero 27 di Dragon Ball riproposta da Tite Cubo l'autore di Bleach infatti si vede proprio il suo stile davvero bello appunto per celebrare Dragon Ball ogni mese fanno insomma con un autore diverso una copertina diversa tanta roba bellissima rivista e niente ragazzi io direi che per questo video di recensione si può chiudere qui se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate o condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao